Da alcuni giorni avevo finalmente un contratto nella capitale. Una stanza in via Pescara 19 mi stava aspettando. A settembre sarebbe iniziata la mia esperienza alla Savienza. Stefano, mio mentore, non convinto della mia scelta, mi invita ad Ascoli Piceno. Con irrinunciabile curiosità, una mattina di buon'ora, salgo sul treno. Una volta sceso, ad Ascoli non servì neanche un minuto per dimostrarmi tutta la sua grandezza. Felicissimo Stefano, felicissimo io, forse non troppo mio padre che aveva già versato la caparra. Da circa sei anni vivo qui, in questa città che ha voluto accogliermi ed ospitarmi come un principe.